Alla base dei nostri problemi c'è spesso la mancanza di equilibrio con noi stessi e nel momento in cui trascuriamo questo aspetto immediatamente ci troviamo in difficoltà nel portare a termine anche cose più banali, più piccole della nostra quotidianità. Ad oggi credo che un grande problema sia il fatto che siamo una società altamente soggetta alla comparazione sia grazie ai social sia in realtà perché anche nelle pubblicità ovunque ci giriamo ci sono persone con le quali noi ci mettiamo a confronto e spesso non reggiamo questo confronto perché ci sentiamo inferiori e non sto parlando solo a livello fisico ma proprio anche a livello di scelte di vita di percorsi di vita, di tempistiche che vengono reputate standard in un certo modo e sbagliate in un altro. Io ne sono l'esempio probabilmente più lampante perché mentre tantissimi miei compagni si ritrovano adesso a finire il loro percorso di trennale e stanno per ottenere una laurea io sono ancora relativamente all'inizio perché sono al primo anno e ci sono voluti due anni per capire quello che volevo fare due anni in cui mi sono preso una pausa dallo studio ho lavorato, ho fatto tantissime altre esperienze che non riniego e anzi non rimpiango perché sono stati degli anni bellissimi che mi ricorderò e porterò con me per sempre ma sapete cosa c'è? Non mi interessa Oggi ne parliamo insieme, affrontiamo tutto un percorso sulla relazione e l'accettazione con noi stessi e di noi stessi sulla body positivity e soprattutto anche sulla comparazione con gli altri Ciao a tutti, io sono Zoe e questo è Now What? il podcast motivazionale dove ogni settimana ci ritroviamo per riflettere insieme su come diventare la versione migliore di noi stessi e come manifestare la vita dei nostri sogni Iniziamo con un bel applauso solamente anche per aver aperto questo video perché vuol dire che ti stai tagliando il tempo per te stessa, per metterti in dubbio e per prendere azione, per intraprendere un bellissimo percorso che sono sicura episodio dopo episodio ci porterà ad avere sia a te che mi stai guardando che a me risultati concreti Come va? Come state? Io spero come al solito che la risposta a questa domanda sia bene ma non dimenticatevi che potete interagire con me sia che mi stiate ascoltando su Spotify sia che stiate guardando la versione video su YouTube tramite la sezione commenti per sentirci connessi ancora di più, proprio al 100% Io non mi dilungo troppo sul raccontarvi quello che sta succedendo nella mia vita perché ormai vi porto con me in vlog settimanali su YouTube dove potete vedere un po' tutto quello che sta accadendo Entriamo nel vivo dell'episodio con il primo punto da affrontare oggi ovvero l'accettazione di se stessi, come ci percepiamo e la relazione che abbiamo con la nostra persona che io continuerò a ripetere, non mi stancherò mai di dire è la cosa più importante che abbiamo Noi saremo l'unica persona che veramente ci sarà dall'inizio alla fine in tutti i momenti perché noi siamo con noi stessi sempre ed è per questo che è importantissimo riuscire ad avere un equilibrio con quello che siamo e quello che pensiamo di noi stessi Ciò che secondo me è l'ostacolo più grande è come parliamo, come ci giudichiamo Cosa faccio io quando sto per giudicare qualcosa di me stessa? Se sto per criticare qualcosa del mio aspetto fisico mi chiedo Non piace davvero a me o non piace alla società? Sto criticando questa cosa perché credo davvero per me che sia brutta o perché le altre ragazze magari sui social sono diverse da me? Tante volte non ci ricordiamo che diverso non è sinonimo di sbagliato ma sinonimo di speciale Tutto ciò che noi abbiamo di diverso rispetto a un'altra persona non ci rende meno di essa ma ci rende semplicemente speciali a nostro modo Al posto di voler a tutti i costi arrivare agli standard di bellezza sui quali poi arriveremo a parlare tra pochissimo che cambiano continuamente dovremmo cercare di ricordarci che non dobbiamo e non siamo nati per essere tutti fotocopi gli uni degli altri Un'altra cosa che mi aiuta a riguadagnare prospettiva come già vi anticipavo è il pensare a come negli anni gli standard di bellezza siano cambiati e si siano evoluti e non vi sto dicendo di pensare all'antica Grecia in cui le donne formose erano il massimo standard di bellezza ed erano rappresentate nelle statue non serve andare così tanto lontano quello è un altro esempio ma io ne porto uno basato sulla mia esperienza e sulla mia vita che risale a pochi anni fa a quando andavo alle medie c'era questa moda terrificante di avere le sopracciglia finissime perché io vi dico terrificante non perché sia terrificante di per sé ma perché per me, per la mia faccia, lo era io ovviamente non ne sapevo nulla di come le sopracciglia fossero fatte per stare bene sulla nostra faccia con i nostri connotati, con le nostre caratteristiche e ovviamente non ne sapevo niente di come le sopracciglia influenzassero così tanto quello che siamo un giorno tornata a casa da scuola dopo aver visto tutte le mie compagne con le sopracciglia finissime mentre io le avevo folte dopo aver visto l'ennesimo esempio sui social ho ben deciso di togliermi tutto quello che pensavo fosse in eccesso e farmi delle sopracciglia molto sottili e ho fatto un disastro che io non so con quale cuore le persone intorno a me non mi abbiano mai fatto notare inutile dire che ci sono voluti anni per farmeli ricrescere come erano in origine come sono le mie sopracciglia come le vedete ora anche adesso se mi devo togliere due peletti superflui sono lì che tremo e dico non uno di più perché altrimenti fai un macello come avevi già fatto in passato e adesso magicamente indovinato un po' vanno di moda di nuovo le sopracciglia folte io riesco ad apprezzarlo un po' di più anche perché dalla società vengono apprezzate un po' di più trovo che questo sia sbagliatissimo perché mai noi dovremmo apprezzare una nostra caratteristica solo quando gli altri iniziano a farlo perché dovremmo dettare quanto noi piacciamo a noi stessi in base a quello che pensano gli altri e non è finita qua come tantissime altre ragazze e ragazzi so che hanno complessi molti più di uno anche io ne avevo un altro che era il seno piccolo da più piccolina mi sentivo quasi presa in giro e in colpa per essere così perché non ho mai avuto un seno prosperoso e sembrava quasi che fosse un requisito per essere e sentirsi femminile io amo essere così adesso perché mi sento a mio agio mi sento più a mio agio di come mi sentirei se fossi diversamente e mi sento più comoda un'altra cosa che penso è quante persone vorrebbero essere come sono io o quante persone vorrebbero avere alcune caratteristiche che io ho e loro non hanno non ha alcun senso questa è una dura verità da sentire ma tutti desideriamo essere qualcun altro senza renderci conto che c'è qualcun altro che desidera essere come siamo noi pensiamo ad esempio ad una banalità c'è questo mito chi ha i capelli lisci li vuole ricci o mossi e viceversa chi li ha ricci o mossi li vuole lisci smettiamola di fare queste cose perché ripeto ancora una volta non ha senso infine un altro aspetto che mi ferma dal parlare male di me è pensare alla me di 5 anni oppure anche solo di 12 io so che una delle ragioni per cui mi impegno tutti i giorni ad essere la versione migliore di me è che voglio rendere fiera quella bambina esaudire i suoi sogni se mi insulto io non la sto in alcun modo rendendo fiera tra l'altro una cosa super cute che ho sentito è che alcune persone hanno iniziato proprio per questo motivo a mettere una loro foto da piccoli attaccati vicino agli specchi in questo modo ogni volta che si guardano e stanno pensando di dire qualcosa di negativo ecco che guardano la loro versione piccola e si rendono conto che è completamente sbagliato che non lo devono fare volevo condividere un ultimo aspetto riguardo una mia grandissima insicurezza con cui negli anni ho lottato più che contro qualsiasi altra con la quale finalmente poi ho iniziato a convivere perché ho iniziato a fregarmine sempre di più i brufoli la pelle imperfetta io mi ricordo ancora un episodio di quasi dieci anni fa pensate a quanto impatto e quanto duraturo abbiano le parole mi era stato fatto notare sempre nel meraviglioso periodo delle medie inutile ormai dirlo di nuovo che avevo la fronte piena di brufoli non è che io non mi vedessi tutti i giorni allo specchio perché anche qui secondo me ad alcune persone non passa nel cervello che non è che una persona non si vede non si guarda anzi probabilmente l'insicurezza che tu le fai notare lei l'ha già vista cento volte si è già domandata cento volte come fare a rimuoverla io sapevo tutto quello che avevo cercato di fare per toglierli e quante cose ancora avrei fatto in futuro quanti soldi avrei speso per cercare di risolvere il problema le altre persone no e a volte mi sentivo in colpa come se non stessi facendo abbastanza per toglierli ad oggi mi guardo proprio indietro dico Zoe ma perché cosa dà il diritto alle persone di commentare su di te e poi penso anche se tutti si autoanalizzassero un po' di più invece di analizzare gli altri sarebbe veramente un mondo nettamente migliore in cui le persone non proiettano le proprie insicurezze sugli altri passiamo alla seconda parte di questo video che riguarda la body positivity sarà molto coincisa molto breve sarò il più delicata possibile quindi non temete dal momento che il 15 marzo è stata la giornata del fiocchetto lilla ovvero la giornata contro i disturbi alimentari ci tenevo a spendere due parole la body positivity secondo me sui social è spesso portata all'estremo è vero che è importante amarsi allo stesso tempo però ci sono condizioni per le quali ci si può amare ma allo stesso tempo riconoscere che sono sbagliate e di conseguenza che vanno eliminate e questo non vuol dire che se si è in una forma che non è sana non ci si può amare nel percorso di rimettersi in salute assolutamente perché non ci si deve mai odiare però bisogna riconoscere quando è il momento di cambiare per davvero per se stessi per il proprio benessere vorrei ricordare l'importanza di smetterla di commentare il peso altrui o le abitudini alimentari altrui soprattutto se non si conosce quella persona soprattutto se si vede quella persona sui social non la si è mai vista di persona non si sa la sua storia non si sa niente negli anni io non vi dico quante volte è arrivata la domanda ma sei dimagrita? la trovo una domanda fino a se stessa cosa cambia a te che mi segui a te che mi guardi che io sia dimagrita o meno negli anni niente quindi la domanda non ha senso di esistere l'ultimo punto che volevo affrontare oggi è la comparazione e come smettere di sentirsi meno rispetto a ciò che vediamo online non credete mai a quello che vedete sui social non importa quanto voi vi fidiate della persona che c'è oltre lo schermo mai fidarvi al 100% di ciò che vi viene proposto perché è tutto troppo manipolabile una mia falsa credenza che ho avuto per tantissimi anni e per la quale mi sono fatta un sacco di paranoie è stata sì ma ok magari le foto si possono modificare i video no non è vero le app per modificare anche i video sono a portata di tutti le modifiche possono essere più o meno innocenti perché non sto dicendo che per forza le persone che si modificano le foto si stravolgono i connotati e poi le vedete dal vivo e non le riconoscete ma comunque non ha senso compararvi a qualcosa che al 99% è fittizia ognuno ha caratteristiche diverse fisionomie diverse corporature diverse e non ha senso tentare di combatterle il famoso e tanto amato spazio in mezzo alle cosce che c'è stato un boom un po' di tempo fa tutte le ragazze volevano tutte le ragazze desideravano diete impossibili allenamenti assurdi non esiste se già non ce l'avete di natura perché fa parte della conformazione del bacino che ognuno di noi ha in modo leggermente differente non ha senso cercare di raggiungere qualcosa che il nostro corpo non è progettato per raggiungere e così come questo esempio sicuramente ce ne sono tantissimi altri che riguardano proprio come il nostro corpo è stato costruito ricordatevi a volte che odiare il vostro corpo che fa invece così tanto per voi è uno spreco ed è un peccato perché il nostro corpo è meraviglioso ho anche letto un libro che mi ha fatto pensare tanto su questo argomento che si chiama Little Life una vita come tante in italiano è un libro straziante in cui vengono affrontati tanti temi delicati e tra questi temi c'è anche il tema della disabilità io mi sento estremamente fortunata tutti i giorni a poter usare le mie gambe a poter usare le mie braccia e penso a quanto tempo io abbia passato ad odiarle il nostro corpo è meraviglioso è capace di cose così spettacolari che non dovremmo mai e poi mai sottovalutarlo e darlo per scontato e ciò che vi dicevo prima sulla realtà distorta e modificata non riguarda solo l'aspetto fisico ma anche le vite e le personalità delle persone che vedete nessuno probabilmente è come si racconta sui social perché tutti decidiamo di raccontare un certo personaggio c'è chi decide di raccontarsi ricco c'è chi decide di raccontarsi povero c'è chi decide di raccontarsi facendo una vita spericolata c'è chi decide di raccontarsi in un altro modo non importa tutti probabilmente stanno recitando una parte e stanno costruendo un personaggio e così giungiamo al termine di questa puntata dove condivido con voi una frase motivazionale per proseguire al meglio la vostra giornata e la vostra settimana in generale it all begins and ends in your mind what you give power to has power over you ovvero tutto inizia e finisce nella tua mente ciò a cui dai potere ha potere su di te spero di avervi tenuto compagnia ed avervi spronato a dare il vostro massimo vi ricordo di seguirmi su Instagram e TikTok dove mi trovate come Zoe Epifani e su YouTube dove mi trovate come Zoe's Board io vi mando un bacino e buon lunedì a presto e buon lunedì e buon lunedì e buon lunedì